pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati cosa siamo noi cristiani nel mondo qual è lo scopo del nostro esserci lasciamocelo dire da gesù egli ha appena proclamato le beatitudini e subito dopo afferma voi siete il sale della terra e la luce del mondo e la dimensione missionaria della chiesa di ciascun credente pensate che bello siete sale luce non sarete o dovete essere ma siete all'indicativo è cristo che ci rende tali e lo siamo nella misura in cui viviamo uniti a lui incarnando il vangelo vivendo secondo lo spirito delle beatitudini a tal proposito madre teresa faceva un esempio luminoso spesso si vedono fili elettrici piccoli o grossi nuovi e vecchi cavi costosi o a buon mercato da soli sono inutili e finché non passa la corrente non sia luce il filo siamo noi la corrente è dio noi abbiamo la possibilità di permettere alla corrente di passare attraverso di noi e di utilizzarci per produrre la luce nel mondo oppure possiamo rifiutare di essere usati e consentire così alle tenebre di diffondersi miei cari che dono e che responsabilità grandi essere sale luce per il mondo ma cerchiamo di capire meglio queste due immagini voi siete il sale della terra il sale serviva a varie le cose in particolare a purificare a conservare gli alimenti e soprattutto a dare sapore di per sé si può benissimo mangiare senza sale i cibi già ne contengono ma il sale rende tutto più buono il sale da sapore ecco gesù è come se dicesse voi miei discepoli servite a rendere più buono il mondo tu inserito nel tuo contesto servi a diffondere il sapore dell'amore vero a dare senso alla realtà con la sapienza del vangelo e miei cari dove c'è una persona che realmente crede che davvero ama dio e gli altri questo sapore si percepisce ma c'è un rischio gesù dice se il sale perde il sapore con che cosa lo si renderà salato a null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente ed è proprio così se perdiamo il sapore qui abbiamo il verbo moraino che di per sé significa diventare stolto sciocco folle e richiama la stoltezza di chi ascolta ma non mette in pratica non serviamo a nulla se il sale non sala a che serve se noi cristiani non sappiamo di dio se non diffondiamo il sapore della sua parola del suo amore a che serviamo a nient'altro che ad essere calpestati dagli uomini se ci sganciamo da cristo se non coltiviamo la relazione con lui ci annaquiamo ci mondanizziamo e perdiamo sapore e la gente ci calpesta infatti la gente ci critica quando vede scandali quando ci vede sciapi scialbi mondani corrotti o nel caso di noi sacerdoti quando più che ministri di dio sembriamo affaristi o impiegati del sacro quando ci si imbatte in cristiani che non danno la vita che non insaporiscono la vita degli altri c'è disprezzo pensate un filosofo ateo Nietzsche diceva se la buona novella della bibbia fosse anche scritta sul vostro volto voi non avreste bisogno di insistere perché si creda all'autorità di questo libro le vostre opere le vostre azioni le vostre scelte dovrebbero rendere quasi inutile la bibbia perché voi stessi sareste la bibbia vivente fa riflettere no in fondo esprime il desiderio da parte di chi non crede di vedere qualcosa di bello in noi credenti perché anche chi non ha conosciuto gesù o letto il vangelo per sentito dire ha idea della bellezza del messaggio della vita di cristo che siamo chiamati a incarnare ma se proponiamo una religiosità fredda disincarnata moralistica ma chi pensiamo di attrarre perché tanti giovani scappano dalle chiese perché tante persone che sono a contatto con noi non si avvicinano forse una domanda dovremmo farcela successivamente gesù dice voi siete la luce del mondo e usa due esempi capaci di coniugare la dimensione personale ed ecclesiale la città posta sopra un monte e una lampada da porre sul candelabro anzitutto gesù dice che noi cristiani noi chiesa siamo come una città posta in cima a un monte siamo dunque visibili cosa conta allora mettersi in mostra sforzarsi di avere visibilità no cercare autenticità si tratta di essere ciò che siamo chiamati ad essere chiesa di dio sua famiglia comunità di credenti luogo dove si prega dove ci si nutre della parola e della presenza di dio luogo dove circola amore i pagani erano stupiti dalla vita fraterna dei primi cristiani da loro aiutarsi a vicenda dal fatto che non vi fossero barriere sociali tra di loro li chiamavano quelli che si amano e questo ci fa chiedere ma la realtà ecclesiale alla quale appartengo attrae a cristo chi si affaccia dalle parti della parrocchia della mia comunità religiosa del presbiterio nel quale sono inserito cosa respira aria di famiglia senso di accoglienza circola amore e io per primo cosa metto in circolo ed ecco il secondo esempio che tocca la dimensione più personale gesù dice non si mette una lucerna sotto il moggio per capirci sotto il secchio ma sul candelabro perché illumini tutti quelli che sono nella casa noi siamo questa lucerna che era una sorta di lampada ad olio se siamo accesi dal fuoco dell'amore di cristo diffondiamo la sua luce a noi cosa è chiesto di alimentare questa fiamma e lasciarci porre sul candelabro cristo stesso possiamo dire ha avuto come candelabro la croce sulla quale è stato innalzato e dalla quale il suo amore si è irradiato ecco ciascuno di noi ha il suo candelabro che significa che io e te abbiamo una missione ognuno ha la sua collocazione dove essere fare luce se ci lasciamo innestare da dio al giusto posto e ci abbandoniamo a lui ecco che la sua luce può passare attraverso di noi e allora puoi scoprire che quella malattia che magari adesso affronti può non essere una disgrazia ma un candelabro sul quale il signore vuole innalzarti perché insieme a lui possa passare la sua luce e raggiungere tanti e guarda quanti santi hanno detto il loro sì pensa a chiara luce luminosissima nel suo modo di vivere la sofferenza unita a cristo e il tuo candelabro può essere il tuo sacerdozio il tuo matrimonio può essere la vita consacrata alla quale ti senti chiamata può essere il tuo lavoro dove dio vuol servirsi di te per migliorare la vita di tanti ma non solo possiamo vedere in quel candelabro tutte quelle occasioni quotidiane e anche quegli imprevisti o quei problemi che ci chiedono di fidarci di dio di abbandonarci a lui di lasciar così passare la sua luce attraverso di noi e infine perché tutto questo perché gli uomini vedano le vostre opere buone di per sé abbiamo il termine calos opere belle e rendano gloria al padre vostro che nei cieli ecco il nostro fine che le persone grazie alle nostre opere belle arrivino a rendere gloria a lui che guardando la nostra vita possano dire che meraviglia il padre che cose belle ha fatto nella tua vita perché ciò accada c'è da aprirsi a lui e lui che ci rende sale e luce noi siamo chiamati a compiere i nostri atti di fede fidandoci della sua parola permettendogli di compiere in noi la sua opera lo riassume bene la preghiera tanto bella di una persona che davanti ad un perdono che riteneva impossibile di poter donare pregava dicendo signore io non ci riesco ma tu sì agisci tu in me vinci tu in me ama tu in me e siamo ne certi se ci fideremo del signore la sua luce brillerà in noi e attraverso di noi illuminando di senso e riempiendo d'amore la vita di tanti d'altronde chi sono i santi sono coloro che fanno passare la luce rispose saggiamente una bambina perciò concludiamo con una bellissima preghiera di madre teresa che riassume tutto splendidamente aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo o gesù dovunque io vada in onda la mia anima del tuo spirito e della tua vita diventa padrone del mio essere in modo così completo che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua presenza dentro di me perché guardandomi non veda me ma te in me resta in me così splenderò del tuo stesso splendore e potrò essere luce agli altri che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti